C'è la foto in timeline? Quelle di Satricum? Sì, sì, prima il servizio e poi... Terza parte della nostra rassegna stampa, andiamo a dare un'occhiata ai titoli da Latina sul giornale di Latina che apre con l'urbanistica fuori Malvaso. Intanto il Comune congela 20 permessi di costruire in attesa delle verifiche sui piani attuativi, i consiglieri di Forza Italia impongono una svolta e passo indietro del costruttore in commissione. Un sindaco a tasso variabile, poi l'approfondimento di Clemente Pistilli, chiarisce senza chiarire, smentisce senza smentire, si parla di giudiziaria e lui la butta in politica. Ma su una cosa il sindaco sembra avere proprio ragione, la sua casa è diventata inutilmente un caso. Peccato però che l'artefice di tale situazione appaia a lui stesso. Di Giorgi ha inviato due note stampa per dire di voler far piena luce sull'acquisto di un attico da Malvaso, trasparenza annunciata e non arrivata. Non ha spiegato neppure perché nell'atto di vendita viene precisato che avrebbe pagato 335 mila euro entro il 30 novembre 2012 e invece di quel denaro gli investigatori non hanno trovato traccia fino a gennaio. Dopo l'ok definitivo alla variante Piave, cara al consigliere comunale costruttore. Poi ieri ha fatto di più, parlando ai microfoni di Radio Luna, di Giorgi ha sostenuto che c'è chi lo attacca sul lattico solo per diventare sindaco al suo posto. Peccato che a evidenziare la stranezza dell'affare sia stato il GIP mutuo a tasso variabile, che ha infine ironizzato Di Giorgi dopo che su queste colonne era stata evidenziata la discrepanza sui dati relativi ai pagamenti forniti dallo stesso sindaco. Andiamo poi a dare un'occhiata invece a quanto è accaduto a Cisterna con la fotonotizia a centropagina. La tangenziale killer fa un altro morto e la vittima in questo caso è una guardia giurata di 48 anni, ferito un carabiniere. Alle 23 di ieri sera il barricato di Norma si è arreso e ancora da Aprilia l'ultimatum della clinica il management minaccia di chiudere il pronto soccorso. Da Borgomontello irruzione interforze nel bunker al Carama, da Terracina invece un macigno in regione, arrivano col pullman per riaprire la ferrovia e poi ordine forense, avvocatura unita, presentata la lista di Giovanni Lauretti. Ancora notizie da Latina, in questo caso si parla della vicenda di Norma, che si è conclusa positivamente proprio nella serata di ieri e in taglio alto la SRL mista che tentò l'assalto all'otto in Q3, Malvaso ed altri politici presentarono il progetto, la saga delle varianti, così viene definita dal quotidiano di Latina questa vicenda. Muore dopo lo scontro, anche qui la cronaca, in un frontale ha perso la vita un metronotte, Giuseppe Gibbini, questo il nome della vittima dell'ennesimo incidente mortale sulla tangenziale killer. Il caso ha un occhio elettronico per la sicurezza, il Comune di Latina sta valutando la possibilità di acquistare un dispositivo capace di riscovare in tempi record, leggendo la targa dei veicoli in transito, gli automobilisti che viaggiano con assicurazione e revisione scadute o con mezzi rubati e sottoposti a sequestro. Da Aprilia invece protesta all'Agenzia di Formazione Termosifoni Rotti e Scarsa Sicurezza, protesta nella sede di Aprilia della Latina Formazione Lavoro. Ieri i ragazzi e le ragazze iscritte all'Agenzia non sono entrati per seguire i corsi a causa dei continui problemi nell'edificio Via Cellini. Da Monte San Biagio sangue infetto e risarcimento milionario, il Ministero della Salute dovrà risarcire di oltre un milione di euro i figli di una donna morta nel 2008 per un caso di sangue infetto. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Roma. E poi la storia con il blizza dal Carama, con tanto di foto, e infine Mafia Capitale, commissione negata. La commissione d'inchiesta sugli appalti affidati anni fa dal Comune di Sabaudia, cooperative coinvolte nell'inchiesta Mafia Capitale, non verrà istituita la maggioranza compatta, abbocciato la proposta dell'opposizione. E rimaniamo a Latina, Giulia, con altre notizie dal web. Sì, una notizia di sport con l'ira dei tifosi della Tina Calcio e la curva vuota per i primi 20 minuti sabato prossimo. I tifosi, l'ira dei tifosi contro i giocatori, in occasione del confronto tra Latina e Livorno, in programma alla Francioni sabato prossimo, i gruppi organizzati della tifoseria della Curva Nord entreranno con 20 minuti di ritardo. Ne danno notizia agli stessi tifosi in un comunicato durissimo nei confronti dei giocatori nerazzurri. Non saremo più disposti, sottolineiamo più, a tollerare la mancanza più assoluta di personalità. Abbiamo l'obbligo di salvare la categoria per noi e per la città. La musica cambia, questa sarà la prima di tante iniziative contro chi non ci merita. Questo è uno dei passaggi, uno dei tanti passaggi che è stato estratto dalla nota informativa dei tifosi. Un'altra notizia delle ultime ore, un attentato ad Aprilia tra gli arresti da parte della Mobile per un attentato intimidatorio avvenuto a dicembre. Ad Aprilia una notizia, un ragazzo, scusate, è finito in carcere e due ai domiciliari. Sono accusati di aver esploso colpi di fucile a Canemunza e danni di una coppia di parrucchieri di Aprilia. Il dirigente della Mobile, Niglio, ha spiegato che le indagini proseguono per fare chiarezza sul movente, per individuare il mandante. Due, gli episodi contestati. Prima gli spari contro l'abitazione e poi a distanza di pochi giorni contro il negozio. Quindi a distanza di qualche giorno sono stati individuati i responsabili del gesto. rimanendo sempre nel capoluogo pontino ma occupandoci ora di trasporto, tutte le novità che ci sono state, le prime novità a seguito di un incontro in Regione Lazio in cui il sindaco Di Giorgi e l'assessore alla mobilità hanno fatto un po' il punto della situazione e giudicato indispensabile quanto prima un tavolo di confronto, un tavolo tecnico. Vediamo il servizio. Un incontro in Regione Lazio per fare il punto sul progetto Metro Leggera di Latina a richiederlo il sindaco del capoluogo pontino Giovanni Di Giorgi che si è confrontato con l'assessore regionale ai trasporti Michele Civita stabilendo l'esigenza di istituire un tavolo tecnico. Obiettivo di quest'ultimo verificare la sostenibilità e la fattibilità dell'opera. Accanto al tavolo è necessario rivedere insieme al concessionario il progetto tecnico dentro ad un più complessivo piano della mobilità di Latina a fronte della nuova linea metropolitana affinché possa essere una infrastruttura davvero utile per i cittadini ed in grado di restituire un progetto di mobilità innovativo. La prima modifica al progetto consisterà nella realizzazione di un'unica linea leggera che collega Latina Scalo con Latina mentre nel progetto iniziale erano previste due linee. Altri incontri seguiranno a questo iniziale e saranno concentrati sugli aspetti tecnici. Tra questi è previsto un tavolo con cotra l'SPA per verificare una possibile riorganizzazione della percorrenza dei bus dell'azienda regionale nell'area di Latina anche al fine di verificare la sostenibilità economica dell'opera in un ridisegno complessivo del TPL regionale e comunale. E rimanendo sempre a Latina parliamo però di cultura ed archeologia con il sito Satri con un'importante novità per questo sito archeologico che potete vedere anche nelle immagini. Sabato 31 gennaio presso l'Università di Amsterdam avrà luogo la presentazione dei risultati degli scavi dell'area archeologica dopo 35 anni dal loro inizio. Il sindaco di Latina Giovanni Di Giorgi ovviamente ha voluto esprimere la sua soddisfazione siamo orgogliosi e ha dichiarato il primo cittadino di questo avvenimento e dei risultati che il lavoro di questi anni nell'area di Satricum sta portando alla nostra città creando opportunità di valorizzazione del territorio e del patrimonio storico e archeologico che le appartengono. Accanto alla città nuova infatti il nostro territorio presenta tracce e testimonianze di insediamenti prerumani in un'area, quella di Satricum che deve diventare un importante attrattore turistico inserito in un contesto ricco di altri elementi culturali e paesaggistici di notevole rilievo. Ha ovviamente ringraziato tutte le persone che hanno curato gli scavi che hanno lavorato in essi e anche i cittadini della zona interessata per questo importantissimo risultato a livello culturale ed archeologico. Andiamo a dare un'occhiata a Giulia ad altri titoli dal messaggero Ostia Litorale ovviamente non trattiamo quelli che abbiamo già ampiamente approfondito dalla capitale ma diamo un'occhiata ad altri titoli ad esempio da Ostia il Carnevale Felliniano al Borgo una festa medievale un corteo capeggiato da un redivivo Federico Fellini è composto da personaggi e macchine sceniche tratte dai film uno spaccato di vita medievale nel suggestivo Borgo di Ostia Antica e un caffè concerto sulle musiche appunto di Saint Sense così che Ostia si prepara al Carnevale e da Cimicino un lungomare pattumiera il caso sollevato dal giornale tonnellate di rifiuti lungo la costa blitz della capitaneria e vediamo l'aria nell'immagine ingombra di rifiuti posta sotto sequestro dalla guardia costiera e ancora da Ostia violenza sulle donne 165 nuovi casi in un anno è una violenza che esplode quasi sempre tra le mura di casa principalmente in famiglie italiane e che viene alla luce quasi esclusivamente perché la donna riporta fratture e contusioni da pronto soccorso da Nettuno poi onora marito e moglie salvarono una famiglia di ebrei e quindi questo è il riconoscimento della città di Nettuno alla famiglia famiglia i coniugi senise che appunto hanno ospitato nella loro casa di Nettuno tre famiglie ebrei sei adulti e cinque bambini proprio una di quelle bambine che a differenza di tanti altri coetani ebbe grazie a loro una storia a letto fine pensò di segnalarli per il riconoscimento e proprio oggi alle 11 e un quarto anche questa bambina oramai cresciuta è stata presente all'istituto tecnico economico per il turismo Emanuele Aloi dove è stata titolata l'aula magna proprio a questi due coniugi per questa storia a letto fine che sicuramente ha fatto onore alla famiglia ma andiamo ancora sul web prima di fermarci per l'ultima volta sì Alessandro sul web per una notizia che arriva dal reatino un furto di rame ancora un ennesimo furto di rame due arresti da parte dei carabinieri e gli uomini sono stati colti in flagranza di reato due uomini di due cittadini romeni residenti a Magliano Sabino i due sono stati colti all'interno di un cantiere in cui è in corso la costruzione di un'abitazione mentre facevano incetta di grondaglie e discendenti di rame per un peso complessivo di 50 kg e rimanendo sempre nel reatino prima di andare in pausa vi mostriamo un contributo video che riguarda nuove regole e assetti stabiliti dal coordinamento provinciale di Forza Italia vediamo Forza Italia pone l'accento sulle polemiche interne tra Moreno Imperatori e Antonio Cicchetti si è infatti riunito il coordinamento esecutivo provinciale di Forza Italia definendo una serie di linee programmatiche da seguire forte della voglia di un rilancio della coalizione di centrodestra che arriva da tanti comuni del territorio e dalla cosiddetta società civile il coordinatore Sandro Grassi ha proposto alcuni interventi immediati di natura organizzativa progetti che l'esecutivo di Forza Italia ha approvato prossimamente lavoreremo affinché si costituisca il nuovo gruppo consigliare di Forza Italia al comune di Rieti ha dichiarato Grassi per chiedere a tutti i consiglieri comunali iscritti al partito di farne parte perché solo così si potrà svolgere una migliore coordinata azione di opposizione alla giunta Petrangeli una volta definito lo statuto della nuova provincia anche a Palazzo Doltrevelino verrà poi costituito il gruppo consigliare del partito possibilmente un unico gruppo della minoranza di area di centrodestra si tratta di passaggi importanti ha proseguito Grassi per mettere un po' di ordine alla nostra azione politica sui territori evitando una volta per tutte i personalismi per fortuna sporadici di taluni elementi che negli enti locali concordano pericolosi patti con l'avversario e di fatto mortificano il nostro partito e quanti ci si impegnano il momento è troppo delicato e costellato di macroscopici errori da parte della sinistra per non far sentire forte e chiara la voce di Forza Italia e dei suoi esponenti bene affatto Antonio Cicchetti che ha dato la sua disponibilità di persona capace trasparente ed autorevole per una eventuale candidatura a sindaco di Rieti e dei suoi esponenti